Attentional bias o bias d'attenzione. Il bias d'attenzione è un fenomeno psicologico che consente nel nostro tendere a prestare maggiore attenzione a determinati stimoli o informazioni a discapito di altri. Ciò significa che la realtà che percepiamo e viviamo può variare a seconda di ciò su cui decidiamo di concentrarci maggiormente. Ad esempio se scegliamo di prestare maggiore attenzione alle notizie negative potremmo avere una percezione più negativa della realtà rispetto a qualcuno che sceglie invece di concentrarsi maggiormente su notizie positive. Ecco perché è importante essere consapevoli del nostro bias dell'attenzione e fare sforzi consapevoli per cercare di prestare attenzione a una vasta gamma di stimoli e informazioni alle fine di avere una percezione più equilibrata e accurata della realtà. La nostra attenzione è come un faro che può illuminare o oscurare a seconda di dove lo puntiamo. Scegliamo noi dove puntare. Bene, anche per questo bias abbiamo finito e ci vediamo al prossimo bias. Ciao! Ciao!